Scusi di soldati qua, anche, ancora. Sei un soldato? Puoi arrivare adesso? No, no. Devi dieci minuti o più. Se sei un soldato, fai suonare lo stacchiofio. Così. Altrimenti, fai vibrare questo apparecchio. Visto? Sei andato di là. Non spaventarti. Non vogliamo farti dare male o che cosa. Vogliamo solo aiutarti. C'è un bambino? Siete con noi? Siete con noi. Siete con noi. Grazie.